Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale amici miei Siamo qui quest'oggi con il canonico video che vi porto ogni tanto Infatti oggi ragazzi miei siamo qui a vedere il classico video che vedete ogni 2-3 mesi sul mio canale Riguardante il classico deck con 30 o 35 leggendari al suo interno Nel caso specifico quello di oggi ha 35 leggendarie cioè 30 più le 5 che mescola il carissimo Malkesar Per un totale complessivo solo delle 30 leggendarie è di 60.000 dust In realtà è 59,2 ma arrotondo a 60 spero che non vi offendiate per questo arrotondamento E effettivamente ragazzi infatti date le molteplici leggendarie dorate che ho craftato per i miei traguardi di raggiungimento dei sub Che vi ricordo per appunto che streamo su Twitch e quando mi subate ci sono sempre questi traguardi che mi presetto Ho dovuto craftare un bel po' di merda dorata Gli ultimi acquisti sono se non ricordo male Lich King e Lord Walker Cho Il panda di merda ho craftato E se vi volete craftare il deck proprio come ce l'ho io vi costa per appunto 60.000 dust Io vi invito ragazzi infatti tantissimo per il costo totale complessivo della cosa A lasciare un bel like tattico signori per supportare il buon poli Che mi fa tanto piacere se vi lasciate un bel like Perché supporta molto più di quello che pensiate E soprattutto anche un bel commento, una condivisione o un'iscrizione al canale Sono tutte cose che mi supportano realmente realmente tanto Vi ricordo inoltre ragazzi l'ultima cosa cioè abbiamo finalmente visto tutte le carte della nuova espansione Quindi vi lascio ragazzi come sempre in descrizione le Amazon Coin Quindi signori se volete fare il preorder risparmiare 20, 30, 40 euro O dividere a metà con un amico e risparmiare ancora di più Vi ricordo che in descrizione c'è tutto quanto E potete per appunto risparmiare supportandomi E se lo fate mi iscrivete in privato su Telegram Che vi aggiungo nella lista delle persone che voglio ringraziare In un video, in una live o quello che è Vi lascio ora ragazzi il video, non vi lascerò la lista del deck Anche perché comunque anche se ve la lascio Dubito fortemente che qualcuno mai spenderà 60.000 polveri per cartare il suddetto deck E quindi signori miei Allora signori miei, primo game Primo game vedo già che siamo contro il rogue E io nella mano iniziale vedo già che ho a Milaus Chiaramente dorato, ho craftato sempre in live Tutte le carte che ho dorate praticamente ormai le crafto per dei raggiungimenti di determinati sub Ovviamente io se non so, se sono uomo userò a Milaus Chiaramente signori, beh l'orrino mi piace tanto Chiaramente signori mi spero solamente che l'avversario non sia un weapon Che mi fa salire il veleno velenoso Ma soprattutto che non abbia tipo cose incredibili per Milaus Perché io farò Milaus, amico mio buona festa anche a lei Io farò Milaus il prossimo turno La mia domanda era vogliamo fare il prossimo turno La coin mi è fondamentale in questo mazzo signori Un mazzo veramente del cazzo Questo capiamoci fortemente E ovviamente a parte che se vi dico consiglio il crafting Dubito fortemente che ci sarà qualcuno che mi ascolti O se vi dico non dovete ascoltare Non craftatelo Dubito fortemente che ci sarà comunque qualcuno che lo crafterà Lui ha fatto un errore, non ho ben capito il perché Ma in ogni caso va bene Beh se siamo uomini qua giochiamo a Milaus Qua giochiamo a Milaus Questa mano al momento vale un bel po' di polveri Non so bene quante ma io devo giocarmi in Laus Signori no io devo giocarmi in Laus Amico mio ti prego a non fare cose particolari Ti concedo Eviscerate Ti concedo Eviscerate ma solamente quello Anche perché se dal paladino hai preso tipo Dino Size Non è un bene, non è un bene Beh 6-7 Vexter mi va benissimo amico mio Cioè hai fatto una delle cose più belle che potessi fare con il mio Grazie Grazie dal profondo del mio cuore Azzalina non è mia Me l'ha data Malchesar Non è che me l'ha data Azzarina Non è che è una cosa che mi piace Oh dammi qualcosa di OP Arfus Cairn Dottor Boom No Dottor Boom fa Questa è forte Questa per esempio è fortissima Vedi Barnes è una carta che ovviamente giochi sempre perché sei forte In realtà c'avevo lo Steed C'avevo Rag C'avevo Cairn C'avevo un paio di cose ce le avevo che mi sarebbero andate molto bene per la Sylvanas Qua va di fan E sti cazzi Salutiamo la nostra carissima Vento Cesto Vento al Pesto Eccola qua la Vento al Pesto Perfetto carissimo amico mia Lei me la spacca Lei torna nella forma sua originale Nonché schillata Allora vi dirò Questi game che state vedendo Che vedrete Se l'avversario risulta essere un giocatore nuovo Quindi uno che ha poca dimestichezza col game Installato da poco Gli darò la vittoria a fine del game Io arriverò in fondo E gli darò Gli concederò la win Se l'avversario come in questo caso sa giocare Ovviamente non esiterò a spaccargli il culo Perché non mi sembra corretto Se tu vieni amico mia a giocare contro gente Rank 25 E gli giochi sti mazzi Carissimo Con tutto rispetto Ma in rank 25 signori Giocate mazzi di merda Come faccio io E soprattutto concedete Se l'avversario vedete che non è una cima Perché giustamente Mi sembra anche corretto Gioca una spell Se giochi una spell Potrei darti consigli da fine Potrei darti consigli Che poi teoricamente Dovrebbe mettermi contro gente Col mio stesso MMR Ma porca maledetta puttana Io sto giocando un 3 A leggendario E tu mi giochi Cos'è mira Col che cazzo è mira Col tempo contro il fucking Preston Rustens Non mi sembra una giocata schillata Non mi piace Questa peraltro è una spell Che cazzo è sta roba Ah Hai capito Lo shadow step sul Pairomante Caputana man E poi Una fetta di culo Non ce la mettiamo anche Una bella fettina di culo Amico Una fettina panata Vai vai Tradalo Tradalo Dai che lui pensa che abbia buff Sei un grande carissimo Sei un grande Bene Io vado di tori Vero? Vedo che vado di tori Tori number one Tori number two And tori number three Allora è bella di tori San che qua mi discounta 6 Quindi teoricamente Io ho giocato un 0 mana 5-5 Giusto? Perché effettivamente Io faccio questo Lui mi ringrazia Ha cagato il cazzo Questa cosa del ringraziamento Questa è la viscere E' una navi l'erba Ah ok Allora ho il barone Il barone Gheddone Che fa un po' di pulizia E ha già usato Uno shadow step Quindi la via l'erba Dovrebbe nemmeno Essere troppo un problema Abbiamo anche il Leroy Jensen Si Leroy Il Reno Jackson Che ci curerà A full vita Agli occhi di uno Che non ha mai giocato Sta giocando Le ultime espansioni Questo mazzo Non ha metà senso Cioè non capirà Metà di questo mazzo Ma è questo anche Il bello Di questi video Che facciamo avvicinare Gente che magari Non ha vissuto I periodi d'oro Del gioco A un periodo Di meno d'oro Cioè come quelli di adesso Anche se in realtà Non è male Ah è la faccia Del buco del culo Amico mio Tu hai preso Valanir Dall'allucinazione Sti gran cazzi Carissimo E' la malenga Puttana La schifosa Valadette Secondo me Lui in mano C'ha anche un danno Un E6-7 Uno sventramento Ah 7 danni Ti fa un paura Sacchetto di vitello Se ti fa un paura 7 danni Mi fa un paura Anche i tuoi Allora io farò Questo turno Un bel turno Curvato Cioè andiamo di rag Molto semplice 8 danni in bocca Rag che così Una volta a giocare Rag così Era una schifezza Immane Cioè giocavi rag così Eri un perdente nato Non meritavi neanche Di essere Di vivere Non meritavi veramente La vita Che invece Ovviamente a me è concessa Spero che lui non abbia La seconda via l'erba Se no potrei Inconsciamente Soprattutto indirettamente Ma dal mio profondo Bestemmiare Sap 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 ok Sap te lo posso anche concedere Io il problema è che Sui attacca face Eh lui baffa Lui mi manda 14 C'ha 6 danni in board Sono 6 danni muoio Eh no 8 danni muoio Quindi mi rigioco il rag Nella speranza Che colpisca uno dei due Nel caso specifico Il 3-3 Giusto rag È vero che colpirai uno di loro Che visto che è più probabile Bravissimo Così almeno ho la certezza Di non essere morto Il problema è che lui avrà La seconda via l'erba Questo è un palo in culo Non da poco Ma io ho una copia di rag A costo 3 Quindi questa cosa Mi fa anche Dignitosamente bene Se peraltro Riesco a pescare Non so cosa No dottor boom No Non era malvagio Quindi abbiamo due rag Maledetta puttana Bustarda Maledetta Vigliacca Mi sono dimenticato Che non funziona Sto coglione Mi ero completamente Dimenticato Che sto coglione Non funzionasse Ma dimmi te Se sono un sacco di merda Oh rag Devi sistemare il mio errore Devi uccidere l'ichking Devi fare 8 danni a l'ichking Rag Se no siamo nella merda Io carissimo Non dico che ti odio Però vabbè Potevi farlo Sono un coglione Convinto io Giustamente Che avrà messo Sia Mike Che Sarkebran Nel mazzo Sono una merda Umana Mi sono dimenticato 5 heal Ok amico mio Non è che mi dispiace Sta cosa Non te lo nascondo Non te lo nascondo Quindi la spira mortale Va bene Lui ora Deve scegliere cosa fare Con il lich Cioè deve attaccare rag Oppure passi Perché se no Io c'ho un value danno di Ragnaros Perché fa 8 danni Non è che scelgo io Ma dimmi te che sacco di merda Che sono anch'io Potevo cazzo leggere Però eh E giustamente lui trada E la cosa A noi fa estremamente piacere Se trada Perché vuol dire che Che Lich King suo Non ha avuto value Dico Lich King suo Perché noi ne abbiamo Chiaramente altre tanti Lui prende carte Dalla nostra classe Vabbè Fotte e sega Noi adesso entriamo Nella fase Late game iconica E qua dovrebbe essere Abbastanza GG Giochiamo il dottor Il dottore Il dottore Si ammalò Ambarabà Cicicco Ecco Bella signori Penso realmente Che ormai sia GG Beh ci sta Ho giocato di merda Non so perché Mi sono dimenticato Che Taldaram non funzioni Ma è ovvio che non funziona Cioè Ma il che sarà mescolato Dentro mezza merda Per quale cazzo motivo Non ho aspettato Non si sa Questa sarà forte Le bombe gli faranno Del male fisico Ne sono certo Bella predica Dato che non ho spende il mazzo Mi fa molto piacere Bello il tuo buff Sul suo mino Che non c'è più Ho visto proprio Che ha targettato Il pyromancer Non so se avete notato E il mino non c'è più Mi piace questa sua abilità Fantastico Come hai visto Sei stato ractato Se tu fossi un giocatore nuovo Carissimo Io ti avrei fatto anche vincere Cioè io avrei Proprio Mi sarei Avrei concesso Te invece sei un giocatore nuovo Che giochi da tanto Quindi carissimo Non mi sembra giusto Mi sembra giusto lottare Signori Secondo game Signori Secondo game Mi sa che non andrà bene Perché vedo millaus Nella mano iniziale Nuovamente E quindi questo implica Che io sia abbastanza Costretto a tenerlo Sappi guarda che mano Guarda quante dust In questa mano Guardate le polveri Di questa mano Guardatele le polveri Guardate quante Guarda quanta roba Dio cristiano Guarda quanto costo E il problema Contro prete È che l'avversario Talvolta potrebbe avere Tipo mind control Tipo holy fire Tipo free for member Carte che insomma Costano un po' di mana E che non vorresti Fagli costare zero Anche perché se io faccio My millaus E lui fai mind control Non è il massimo Che gli ho regalato Un 4-4 È vero che spreca Ma in control E quindi forse Ci regala soddisfazione In ogni caso Lui parte di Chierica Come ogni bello Priest Abile Della sua categoria Noi peschiamo Bran Barbrins Quello che Non mi ha fatto Procare Tal Da un poco fa Noi facciamo Coin millaus Faccio coin millaus Perché fare Il prossimo turno Millaus È una possibilità In più Che lui abbia E che non ottenga value Non ci credo Carte di merda Io lo faccio Nel episodio di carta di merda Con il millaus Non ha funzionato così bene No carissimo Non è possibile Che non giochi niente Costa zero Cioè costa zero carissimo My control Cioè fallo Fallo man È giusto amico mio Questo è un giocatore nuovo E quindi a priori Vedete Questo è un giocatore nuovo E quindi la partita Se lui Arriverà fino alla fine Gliela darò vinta Penso A meno che non sia uno Che stia facendo le cose Ma è il sane E invece è un super pro Pro player In ogni caso Abbiamo il Bran Che non ci darà value Ma è un 2 mana 2 4 Vi ricordo sempre Che scelgo come classe Il paladino Che l'avversario Non è particolarmente intelligente E quindi vincerà E il paladino È la classe che utilizzo Sempre a priori A parte perché C'ho il carissimo Nonché bellissimo Tarim dorato Che non toccatemi Il mio Tarim dorato Se no vi strappo I tendini Braccicolari Ma soprattutto signori Perché è la unica classe Che ti permette Di mettere board Bene Cioè io avrei Agatha dorata Per farlo con lo sciamano Ma lui Sono degli 1 1 Sempre Che mi aiutano parecchio Nella mia scalata Verso il milione Direbbe Gerry Scotti Famosissimo Gerry Scotti Signori Voi lo sapevate Che Gerry Scotti Non è il suo vero nome Si chiama tipo Gianluigi Quale cazzo si chiama Il nome è molto Virginio si chiama Virginio Si chiama Virginio Gerry Scotti Quando l'ho scoperto La mia vita È deceduta Non ho più una vita Da quel giorno In ogni caso Barnes From the top Che mi darà ovviamente È ovvio No Io in realtà Nel deck Non so perché Non ho messo dentro Tipo carte come In Sharage Così L'ho montato un po' Alla cazzo Mi sa Mi sa che l'ho montato Un po' Alla cazzo L'ho montato in base Alle figure Un po' come ho fatto Quando ho fatto Draftare Il mazzo D'arena Mi amorosa Che draftava le carte In base alle figure In base a se queste Fossero belle o brutte Bello anche sul secondo Mindblast di top deck Che non è stato Particolarmente utile Allora amico mio Io te lo dico Se tu arriverai Fino in fondo Sta partita Te la faccio vincere E guardate che curva di mano Una volta tanto C'è una curva di mano Trovo contro uno Che non ha Nelle braccia Nelle gambe Ma dimmi te Mannaggia Mannaggia Il prossimo turno Sarebbe l'Ital Quindi se lui Non concede Ma soprattutto Non fa delle mosse Che mi fanno Tipo a razza Che mi rendono possibile L'odio nei suoi confronti Io andrò avanti Devo capire Se sono a fuoco o meno Penso di sì Ma non sono sicuro Il taumaturgo voodoo Man Sei fortissimo Due taumaturgi voodoo Io quasi Amico mio Mi 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 Due taumaturgo voodoo Ti faccio Il due voodoo doctor Cioè per me Hai vinto tutto Carissimo Per me hai vinto tutto E questo ragazzo Ripeto Fate come me Se giocate contro gente Ragazzi Che non sa Oggettivamente Né leggere Né scrivere Signori Dategli Dategli il beneficio Di fargliela vincere Cazzo Fategli vincere Il cazzo di game Guarda che cazzo Sta facendo Mi sembra giusto Che vinca 9 10 11 12 13 14 Non ho l'Ital Quindi non è ancora Il momento di Concedere Vaffanculo Taldara Giocheremo tutto Signori vado tutto Face Ovviamente qua non ci fa paura Un cazzo Se lui Resiste Io concederò Perché come ho detto È giusto aiutare I nuovi giocatori Perché se uno è nuovo Mi sembra molto scorretto Che si trovi davanti Un deck del genere Comunque io ho fatto Questo video come sempre Per ricordarvi che 30 leggendarie In questo caso 35 Non significa che sia Automaticamente vinto Il game Arciere elfica Nel mazzo Anche poi Voglio capire che mazzo Stai usando carissimo Penso che lei stia usando Quello precostruito Vero Quello precostruito Che prevede altro Comunque io giro La telecamera così Perché mi sembra più bella Cioè vi faccio vedere Il soffitto Quando potete vedere Questa brutta persona Chiamata Poli Ehi che sta a fare Telecamera Tanto il ragazzo Sta giocando cose un po' A caso Nel senso Mi sembra che stia giocando Carte nuove A me Voi lo sapevate Che esisteva un 3-5 Contount Sì Cazzo Un giocatore d'arena Il Senji Neanche molto forte Vabbè Amico mio Tu non hai concesso Questo ti dà tanto onore Tanto onore I nuovi giocatori Peraltro Solitamente Non è che concedono Si è smontata la sedia Non è che concedono Perché non lo sanno E Non lo sanno E infatti questo Gli fa onore Perché io Non avrei l'Ital in realtà Dovrei fare un altro turno Dovrei fare un altro turno Perché non ho l'Ital Aha E funziona pure Taldemar Ma rendiamoci conto Però Vabbè Non avrò l'Ital Ma Signori Io gliela concedo lo stesso Bravo carissimo Impara a giocare Spero che questa mia vittoria Ti faccia fare strada Signori Andiamo al prossimo game Comunque noi ovviamente E ultimo game Ma non in ordine di importanza Signori Siamo contro Malfurion Gran Tempesta Cioè Non è una classe a caso Capito Malfurion Quello della Gran Tempesta No è abbastanza Ovvia come cosa Signori La mano iniziale Non è nemmeno male Perché qua abbiamo Due drop a quattro No mi si smonta la sedia In questi giorni Scusate se vedete Che stia ravanando Non mi sto masturbando Come sicuramente Molti di voi penseranno Ma c'ho il pezzo di sedia Che si smonta Per girare ste viti Perché non è possibile Ha usato un coltello Ma non ha funzionato Evidentemente Quindi sti cazzi Oh Milhouse Tre volte di fila Nella mano iniziale Oh Manco che le siete così presente Grande Il mio avversario uguale Col che Col mal Che il sarti adoro Amico mio Questi sono i game belli Da giocare in wild Cazzo Questi sono i game Che ti divertono La wild è molto divertente Se ci pensate Questo è il pezzo di sedia Che si è smontato Per chi fosse interessato La wild è molto bella Signori Molto bella Cazzo Ci sta C'è una bella È una bella cosa Ti diverti una valanga Quindi mi piace davvero Davvero tanto Mi piace davvero davvero tanto Dai Passiamo Il prossimo turno Come sempre Come prima Faremo ovviamente Milhouse Speriamo che l'avversario Giochi qualcosa E ok Ha fatto hero power Questo non è un bene Perché vuol dire Che ha più carte pesanti in mano Io farò Milhouse E probabilmente concederò Perché contro Druid Fare Milhouse Non credo sia una bella cosa Alternative manifestation Nourish Wild grow Secondo me Secondo me durerà poco Sto game Durerà molto poco Il game Anche perché lui C'ha un card back Di Jada Quindi forse è quello Di non so cosa Secondo me il suo deck Non è un deck del cazzo Nel senso ha dentro spell Forti Che gli farò regalare Io devo ancora capire Perché hanno craftato Milhouse Top deck Nourish però Carissimo Io con tutto rispetto Però tra tutte le carte Di top deck Non nourish Cioè non nourish Tutte ma non nourish Carissimo Che cazzo dai Bran E almeno non c'ha Minion con Battlecry E questo ci sta Lui probabilmente ha un Jade Quindi dal vedere È un Jade Wild Tipo Ma devo realmente capire Cioè il top deck Nourish Carissimo Quasi ti potrei odiare Anzi io ti sto odiando Vabbè giochiamo il Thanos Il Talanos Il Talnos Che almeno non sprechiamo la coin Il prossimo turno giochiamo Arthus Che come da vecchia esperienza Di questi video Che vi ho sempre portato Con 30 leggendarie Se ci dà Army of the Dead È GG E lui comunque È a tutti gli effetti Un Jade Un Jade anche bello serio Dal vedere No ok Lui fa la giocata più Più strampolata Oh Arthus Se mi dai Realmente armata di morti Abbiamo vinto Ma il prossimo turno Abbiamo vinto Arthus In tua armata dei morti È la win condition Più forte che abbiamo mai visto In questi mazzi Perché si tratta di un 6 mana Evoca tutto il tuo mazzo Partemente Cioè a meno che non mi vada Di sfiga Che trovi Sia Uther Sia La Valanir Credo realmente Che sia impossibile Ok non è un Jade Mi ricredo Su sta cosa Non è del tutto un Jade Però ci sta Ok lui va giustamente lì Io pesco Canta Spirit Umbra Non mi dà value Non mi dà value Nemmeno il Cavaliere Qua ovviamente tradiamo lui Dammi army of the dead O vinto man Niente Disintegrate 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 Che è carta di merda Disintegrazione Vabbè tradiamo lui Che evitiamo Di fargli pescare ancora E passiamo E io ho idea Che in super late game Però vinca lui Perché Jade Idol No Sempre ammesso che li giochi Però se giochi Bran È abbastanza scontato Che giochi Jade Idol Amico mio Quindi in realtà Tu sei il giocatore Che ne sa E tu essendo il giocatore Che ne sa Non ti darò la partita vinta Bensì andremo avanti Fino alla fine Vedo che sai giocare in ordine Quindi amico mio Mi sembra corretto Che lei non vinca Cioè mi sembra corretto Che tu io non ti dia la vittoria Coin Doctor Boom Credo che sia relativamente forte Avrei anche trovato Uther Dall'eventuale Army of the Dead Quindi Coin Doctor Boom Drop a 7 Cioè Doctor 7 Che arriva a turno 6 Non credo che sia una cosa Che l'avversario faccia Particolarmente piacere Le bombe peraltro Saranno ben stipulate E abbiamo poi Un altro turno 7 Forte Con curatore Into Rugg Into poi eventualmente Uther Decay Che non è che faccia Completamente schifo Carissimo Io passo la palla a lei Vediamo cosa ci racconta Sweep Io avrei attaccato prima Carissimo Non lo voglio dire Che sei sculato Come la merda Che non è possibile Sta cosa Cioè le possibilità Che non morisse niente Erano basse Ma va bene Va bene Ci può stare Ci può tranquillamente stare Mostrami che cos'hai La seconda radice vivente C'hai avuto un culo Amico mio insano Cioè non solo Non è morto l'uno Avevi anche le doppie Living Roots in mano Mi fai abbastanza Ribrezzo Carissimo Ribrezzo Peschiamo Marlock Drago e Bestia Sono certo di pescare Una valanga Con sto curatore Tanto che Immagino andremo pure A millare una carta Peschiamo Deathwing E questo per me È tanta roba Basta Cioè non ho bestie Cioè seriamente Scusa mi fa pescare Un drago Un marlock Una bestia Il marlock Ce l'ho in mano La bestia Non ho bestie Cioè non ho bestie E te devo dire Mannaggia il papa Vabbè Ok Sei for chef Va bene Ok Ok Te devo dire Porca maledetta Allora Allora Prossimo turno Cosa vogliamo fare A sei mana Perché se io vorrei Usare disintegrate Ma credo che sia molto difficile Mimiro Zed Quindi io c'ho pure un Mac Un Mac Due Mac Manca il terzo Mac Donald Hai capito la battuta No amico mio Mac E poi Donald Una battuta che vale Almeno Almeno un'iscrizione Su Youtube Penso Vabbè Niente Mac Niente Donald Perché qua mi mancano Purtroppo proprio altri Mac Se avessi avuto in mano Lo Sneed Old Shredder Ci avrei provato Vi dico la verità Ci avrei provato Avrei perso Ma ci avrei provato Per lo spettacolo Questo è altro Signori Mentre vabbè Gioco ovviamente Il 4-3 Che mi permetterà Poi il prossimo turno Di riguadagnare Scudo di vino Grazie a Uther Decay Che immagino Andrò a giocare Seriamente Se pesco Sneed Old Shredder Inizio a pensare Di provare a sviluppare La combo Però il mio 4-2 È abbastanza in pericolo di vita Specialmente se ora Lo attacca Ok Cosa che Fortunatamente Lui non fa Vabbè Andiamo di Uther Ovviamente Questo traderà qui Questo traderà qui L'arma di Uther Traderà il 3-3 E ovviamente L'arma di Uther Traderà il 3-3 Lui riguadagna Scudo di vino Carta fortissima Il Cavaliere di vetro E sti cazzi Signori Sti cazzi Stiamo vincendo Contro un deck forte Questo è un deck Di alto stampo Jade Non magari con queste carte È un deck molto forte Insomma Chi l'ha vissuto Se lo ricorda Quindi sti cazzi Io Veramente sono dell'idea Che Orca maledetta E che cazzo è successo Ehi la 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 Ma cosa succede A telecamera oggi Sto video qua Vi giuro ragazzi Sto avendo Difficoltà tecnica A registrarlo Non poche Si può vedere Un po' storto Che te devo dire Carissimi Non è Non è mai fault Signor Danavaggio Dai Non è che puoi far tanto Il prossimo turno detto E in giro il play No non giocherò Deathwing Però nel senso Aia Aia Fa male Aia La battuta Aia che male Come i V di Aia V di Aia Piene di formaggio Hai capito Cosa ti ha dato Il ragazzotto Hai capito Cosa ti ha dato Il ragazzotto Non è male sta combo Non ve lo nascondo Che non sia male Sta cosa Anche perché Ho sbagliato io Ho sbagliato Sono stato punito Da sta cosa Perché avrei potuto Fottargli Aia Aia V di Aia Ma va bene Non è assolutamente Il problema Noi smorchiamo Face Ormai la partita è andata Comunque Potevo fottergli Aia Quindi E fottergli Anche l'arrampamento Dei Jade Ma sta cosa Non penso che Minimamente ci andrà a toccare Ricordo che se lui Dovesse fare una board Incredibile Con Dominion Anche con The Atratol Io posso fare Alla morte Proccare Quindi anche poi Silvanas E quindi Signori La partita è stata bella Finché è durata Mi dà fastidio Che non sia dritta La videocamera Ma penso che Ormai l'abbiate capito Signori È stato un bel game Ma anche misplayato Abbiamo vinto comunque Ovviamente ragazzi Spero che abbiate L'intelligenza Nonché il seno Coseno Che il deck Non è un deck forte Ok E che non lo craftiate Perché sennò Siete dei folli Cioè Se qualcuno mi manda lo screen Che ha trattato sto mazzo Vi giuro che Lo faccio Moderatore di tutti i miei canali Anzi Gli regalo i miei canali Proprio per essere diretto Gli regalerò i miei canali Proprio Direttamente Sono 7 Più 9 16 Più 5 21 danni Carissimo È stato veramente un piacere Se non giocassi Jade Quasi ti avrei fatto vincere Ma scherzavo Mio mio Purtroppo le gioca Jade Non merita assolutamente La vittoria E quindi noi Ci portiamo a casa 3 game in a row Signori miei Amici miei Spero che il video vi sia piaciuto E è chiaramente Il solito video che vi faccio Per portare avanti il deck E farvi vedere Come i 30 leggendani In realtà non servono Assolutamente un cazzo Ringrazio tutti quelli Che hanno guardato il video Fino a qua Tutti quelli che hanno lasciato Un bel like Un commento Una condivisione Un supporto Qualsiasi cosa Che vada a supportarmi Fattissima roba ragazzi miei Ma soprattutto Yeah 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 Yeah